La Biblioteca Qui ci sono i tesori della Chiesa e dell'umanità. Manuscritti appartengono al fondo più precioso della Biblioteca. La nostra preoccupazione è di conservare questi manoscritti. La digitalizzazione ha per prima preoccupazione il fatto di conservare e di mettere a disposizione non più gli originali, troppo fragili, ma una coppia perfetta. La nostra storia a un certo punto ha quelle opportunità quasi casuali. I nostri esperti di informatica e di fotografia hanno l'opportunità di incontrare persone di NTT Data. E' nato il desiderio di camminare insieme, di scommetterci insieme. NTT Data ha fatto la scommessa. E noi abbiamo creduto questa scommessa. NTT Data ha avuto circa 50 anni, Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione